partite lungo la corda Apollo Fox si mantiene in vantaggio poi all'esterno e Calari a prendere il comando davanti a Apollo Fox in terza posizione si sistema a largo Super Marmalade nei confronti di Mattings quindi Ballabar ancora Special Rush con in coda Kitty Ganur Cavalli ora dopo 600 metri di corsa lungo la retta opposta con Calari sempre leader nei confronti di Apollo Fox che ha all'esterno Super Marmalade in quarta posizione Mattings a precedere Ballabar quindi Special Rush e Kitty Ganur Cavalli ben riuniti ora all'imbocco della curva di fondo con Calari sempre in vantaggio tallonato da Apollo Fox con all'esterno Super Marmalade che ora rompe gli indugi e passa a condurre seguito da Ballabar quindi ancora Calari Mattings Polo Fox Kitty Ganur è in coda Special Rush Cavalli ora prossimi all'ingresso in retta di arrivo con Super Marmalade in leggero vantaggio nei confronti di Ballabar quindi Mattings Kitty Ganur Special Rush Calari e Polo Fox siamo ora in retta d'arrivo a 500 dal palo Ballabar sta allungando nei confronti Super Marmalade sta allungando nei confronti di Ballabar quindi a centropista si propone anche Special Rush siamo nel tratto conclusivo con Super Marmalade che sta allungando lungo lo steccato nei confronti di Special Rush Ballabar nel tratto finale non ha problemi Super Marmalade che si impone davanti a Special Rush Ballabar al quarto posto Kitty Ganur andiamo a rivedere questa bella affermazione di Super Marmalade alla terza corsa in carriera su una distanza allungata si è imposto nettamente il numero 7 Super Marmalade al posto d'onore Special Rush numero 6 piega di misura l'uno di Ballabar quindi 7-6-1 il probabile ed ufficioso arrivo della sesta di Napoli